E niente raga, non so se si vede meraviglioso oggi, guardate che giornata Siamo in mezzo al lago Con il suppone Nella ciaca Dove c'è il fontanone di paradiso Meraviglia che è Sì ma raga Stavo pensando Quali altri laghi ci sono fighi da andare a vedere Con il supp Qualcuno ne conosce qualcuno? Io sono a Lugano Se qualcuno volesse venire qua a fare un giro Sono mega disponibile Ad andarci insieme Così che Questo sport Diventa anche un po' più conosciuto E ci siamo più persone in giro Così che non ci si trovi sempre da soli A farlo Carino anche farlo in compagni Perché i panorami sono veramente stupendi Opa Che sono un'anomala Che è un traghettone E quindi Col fontanone di paradiso Auguro tutti una buona giornata E chiunque abbia il sub Il sub Voglia venire Qui a Lugano Scriva nei commenti qua sotto Che ci si becca Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti